Perché il paese è stato creato in questo modo, perché la gente qua c'è in mente un lavoro, è una cosa diversa. Perché tutto il resto sono spazi finiti ma anche con un po' di possibilità di insegnare delle grandi città. Quindi questa è la cittadina, noi percorriamo circa 200 km per andare a Niagara e questi rossi coni, queste costruzioni fatte a Hamilton e anche il numero aggiornato della popolazione. La città è la città della città della città. La città è la 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 città. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 con un tasso di umidità, si respira con oggi stamattina 2 anni di seguito, soprattutto una cosa che non stiamo a descrivere vengono posti poi nella stagione giù le cascate del lato canavese sono alto 52 metri e il volume d'acqua che scende le cascate è qualcosa tipo 680 milioni di metri cubici quello che vuol dire è la stessa cosa che un milione di pasca da bagno al minuto scendendo le cascate intanto a destra c'è questo grande ristorante Emporio c'è la torre, c'è questo giardino che va dato a destra, è un incanto è un giardino incanto per quanto uno possa dire va bene è un giardinetto no no è un trionfo fa nipotini, bambini a cui piacerebbero se ne tenga perché tanto non è nessuno le vuole non troppo sulla porta vedete 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 la scensura che porto giù sotto vedete la forma? vedete la screta Quattro persone qui, se non cattura delle aeree, le vanno a prendere le robe. Buonissimo. Bello, è sempre bello. Buonissimo. Buonissimo.